C'è da avere paura ultimamente perché anche l'altro caso l'altro giorno, Sanfior, oggi, ieri, qui a Cornuda, altri ne ho sentiti, altri casi del genere, dobbiamo fare qualcosa, dovete fare qualcosa. Un fatto inamissibile che non deve accadere. Il titolare del bar, oggetto dell'aggressione in pieno giorno, non ci sta e invoca che vengano presi provvedimenti seri che mirino a fare in modo che questo tipo di violenze non possano più verificarsi. Anche se fosse 50 euro uno va a mettere dietro le mani il collo, la dipendente, scusate, ma non siamo più sicuri di fare niente qua perché a questo punto cosa dobbiamo fare? Lavorare in due al pomeriggio quando arrivano tre, quattro persone? Avere questa paura qua che qualcuno entri e faccia questi gesti? No, non esiste, non esiste proprio. Sovrapprezzo quello di 50 centesimi sul conto totale di circa 7 euro per il pagamento via POS, una pratica non prevista dalla legge ma che non giustifica la violenza. Notiamo che c'è questa escalation di aggressioni sul territorio, Conegliano, Castelfranco, Treviso, insomma di diverse parti della nostra provincia e poi c'è la quotidianità, penso ai tanti autisti della MOM che vengono continuamente aggrediti. Quindi io credo che su questo bisogna riflettere, servono anche pene esemplari per tutte queste persone che sono in giro e che magari il giorno dopo le vediamo ancora passeggiare nei nostri centri. Grazie a tutti.